Ancora buche e strade che presentano una pavimentazione regolare, creando possibili disagi e pericoli per gli automobilisti o per chi utilizza mezzi a due ruote. Questa volta si parla della via San Giuliano, che è l'arteria che permette di raggiungere il Redentore, una meta frequentata per la sua posizione, soprattutto in estate, da giovani e non solo, alla ricerca di un po' d'aria fresca nelle calde sere estive. Sarà una delle strade su cui verrà posta l'attenzione, grazie all'avvio del servizio di manutenzione delle vie cittadine, così come racconta l'assessore ai lavori pubblici Marcello Frangiamone. Da breve partiranno i lavori per quanto riguarda le manutenzioni stradali e le manutenzioni ordinarie, quindi le asfaltature per delle vie cittadine. Sicuramente la via San Giuliano, quella che porta al Redentore, sarà una di quelle attenzionate, proprio perché ha delle problematiche che devono essere risolte. Interventi in corso da parte di Caltacqua al momento nella zona della Saccara, anche in questo caso le condizioni di alcune strade erano state oggetto di segnalazione da parte di alcuni cittadini. È stata più volte sollecitata, Caltacqua comunque ha messo a disposizione l'impresa che sta adesso operando e sta risolvendo il problema. Si tratterà di risistemare, ripavimentare e riportare all'origine quella parte di strada che era effettivamente in pessime condizioni. Per quanto riguarda gli servizi in merito all'illuminazione pubblica, nelle arterie cittadine l'assessore invita a mettersi in contatto con il comune telefonicamente per la risoluzione delle criticità. L'illuminazione pubblica adesso è di titolarità interamente del comune di Caltanissette, quindi c'è un'unica impresa che si occupa delle manutenzioni. Sul sito del comune è pubblicato anche il numero telefonico a cui rivolgersi per chiedere una manutenzione, o comunque basta chiamare anche l'ufficio tecnico che provvederà a comunicare l'inefficienza all'azienda che riesce a operare nell'arco di brevissimo tempo, nell'arco di una giornata, in grado di poter risolvere i problemi più semplici, una lampadina fulminata o un problema di disconnessione momentanea.